Disimpegno confermato a fine stagione, non ci sarà alcun ripensamento. Nel comunicato diffuso martedì scorso due giorni dalla sconfitta dello Iacovone contro la capolista Taranto, la dirigenza del team Altamura ha ribadito la volontà di chiudere la propria esperienza nel calcio al termine di questo campionato di Serie D. Non ci sentiamo più parte di questo mondo e mi emoziono anche a parlarne, scusate però è così, perché abbiamo dato tanto in quattro anni di nostra gestione e sono anche di più perché abbiamo partecipato anche, molti di noi c'erano in società già quando l'Altamura è stata promossa in Serie D, si rischiava di fare il salto nel vuoto e di far finire tutto e abbiamo fatto dei grandi sacrifici, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi anni perché il nostro lavoro è stato straordinario, abbiamo fatto quattro anni di Serie D alla grande, ovviamente anche quest'anno ad esempio si sperava in qualcosa in più, però una serie di vicissitudini non ci hanno permesso magari di raggiungere una posizione che credevamo fosse possibile, ma non ci possiamo rimproverare nulla, abbiamo fatto tanti errori, ma chi non li commette? Siamo dei ragazzi un po' sanguigni, siamo più tifosi che dirigenti, ce lo dicono i parecchi, ma siamo orgogliosi, andiamo a testa alta per quello che abbiamo fatto. Resta parlando di calcio giocato l'amarezza di non poter lottare sino al termine della stagione per un piazzamento playoff. Era perfettamente in corsa la squadra murgiana non più tardi di un mese e mezzo fa dopo la vittoria nel derby contro il Gravina, però il team Altamura ha collezionato cinque pareggi e quattro sconfitte in nove partite. L'Altamura causa Covid ha dovuto recuperare partite in pochissimo tempo, non siamo stati tutelati come magari qualcun altro, abbiamo fatto metà del nostro campionato in due mesi, ad un certo punto eravamo lì a sognare qualcosa di incredibile, perché eravamo lì, eravamo nelle prime posizioni in classifica, abbiamo sfoderato delle prestazioni molto importanti, però a un certo punto si è spenta la luce. Nelle ultime prestazioni, voi per errori individuali, per incertezze, storie varie, non ce ne va bene una perché al primo errore veniamo colpiti. Non ci è andata bene in quest'ultimo periodo e in precedenza poi, diciamoci la verità, perdere Antonio Croce che prima di infortunarsi era il capo canoniere del campionato non è stato bello. La nostra squadra era importante, è importante, è un peccato non aver raggiunto magari quello che si credeva, però non posso dire molto ai miei ragazzi perché l'impegno c'è sempre stato, anzi bisogna finire di onorare il campionato nel migliore dei modi. Onorare il campionato sino al termine è l'obiettivo proprio come il team Altamura ha fatto a Taranto, impegno garantito insomma anche per le ultime sfide contro Portici, Franca Villensini e Molfetta. Grazie a tutti.